Ciao, sono Amin Ababio, centrocampista del Mariano e uomo copertina di l'Area Sport 2018. Ciao Amin, una prima domanda, è giusto che tu sia in copertina secondo te? Giusto, giusto no, però vedendo come è andata la stagione e per i risultati che ho portato a livello personale, diciamo di sì. Un tuo compagno che avrebbe meritato questa copertina secondo te? Garbero, capitano del Mariano e uomo immagini del Mariano, un ragazzo che comunque per la sua età quest'anno ha dimostrato di essere un giocatore che merita questa categoria ed ha insegnato a tanti di noi all'interno dello spogliatoio tanti valori ed ha dimostrato di essere un giocatore che può giocare ancora per molti anni. Un uomo copertina con cui ti piacerebbe giocare? Purita, purita perché prima di essere un mio ex compagno di calcio è anche un mio dranghissimo amico, però è stato uno, un compagno con cui mi sono trovato bene l'anno scorso in promozione a Mariano ed è un giocatore che merita veramente tali. Adesso parliamo della vostra grande stagione, scuotè il momento più bello? Il momento più bello, l'ultimo minuto della finale di Coppa Italia. Mentre quello più brutto? I primi minuti del secondo tempo a Foto San Gheorgen. Dove giocherai l'anno prossimo visto che si parla tanto del possibile futuro? L'anno prossimo andrò a giocare in Lega Pro. Con la Gianna Erwinio. Possiamo dirlo con Foto San Gheorgen? No. Ok. Strata dell'Ario Sportivo, secondo te i premi assegnati sono tutti corretti, sono tutti giusti? Assolutamente sì. Io il vincitore greco, non lo conoscevo ma ho sentito e ho letto anche la sua storia e penso che lui per quello che ha fatto anche quest'anno meriti questo primo più. Adesso una domanda sul Mariano, secondo te aveva visto la vittura della Coppa Lombare d'eccellenza, il Mariano meritava di diventare la squadra aerosportiva dell'anno? Assolutamente sì perché è inizio stagione e voi lo sapete benissimo e forse siete stati anche i primi, scusatemi se lo dico, a prenderci come squadra materasso. Abbiamo fatto un buon campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia a livello regionale e siamo arrivati ai quarti di finale della fase nazionale. È stata una stagione molto impegnativa, abbastanza difficile, però penso che per tutto quello che abbiamo fatto noi, un minimo di riconoscimento anche per il Mariano Calcio sarebbe stato giusto. L'ultima domanda che faccio, devo andare in vacanza dopo questa lunga stagione? Vacanza, niente vacanze, solo lavoro, pensiamo alla grana e niente. Ringraziamo a Minabal, uomo copertino all'aria sportiva. Grazie mille. Ringraziamo a Minabal, uomo copertino all'aria sportiva.